Lo sapete quello che mi coinvolge o mi stravolge in queste settimane in cui mi vedete molto concentrato sull'andamento della situazione politica italiana, della formazione del governo, dell'elezione del Presidente della Repubblica è la consapevolezza, guardandosi intorno, che ci sono tante persone sagge in Italia, tante persone per bene in Italia, dentro e fuori il Parlamento e non riesco a comprendere fino in fondo come mai tutte queste persone per bene, sagge, specialmente quelle che sono dentro il Parlamento, non riescano a ragionare con saggezza o non riescano a farsi strada nei confronti di altri i quali sono arroccati in posizioni di assoluto egoismo personale, partitico e che dimenticano assolutamente quelli che sarebbero i reali interessi dell'Italia.